I lavori anti-erosione sull'arenile Truentino sono stati messi subito a dura prova dalla violenta amareggiata di questi giorni. Le onde sono tornate ad attaccare il lungomare e si rialzano le proteste degli operatori turistici, mentre gli amministratori invitano alla prudenza aspettando il termine dei lavori. 3 milioni di lavori che si stanno dimostrando inutili, sembra che il problema dell'erosione infatti non accenni a diminuire. A Martinsicuro è in corso un intervento a parte della regione Abruzzo di 3 milioni di euro a Martinsicuro Centro. Resta il problema sia dell'adeguatezza di questi interventi, ma che soprattutto anche per il discorso di Villa Rosa Sud, dove ancora non si è intervenuti. Necessiterà intervenire con ulteriori risorse, sia per il ripascimento che per gli interventi strutturali, sia per implementare quelli esistenti a Martinsicuro Centro, sia per iniziare quelli di Villa Rosa Sud. Quindi ci auguriamo che sia il Comune di Martinsicuro, che soprattutto la regione Abruzzo, metta a disposizione ulteriori risorse. I danni subiti dalle mareggiate sono abbondanti? A parte i detriti che sono stati riportati sul litorale, c'è un'ulteriore spiaggia portata via da questa ennesima forte mareggiata. Fortunatamente ci sono ancora alcuni mesi che mancano per la stagione stiera, però già da adesso bisogna attivarsi per fare in modo di presentare le nostre spiagge in maniera adeguata. Grazie. 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 Grazie.